In questo video andremo a trovare il mio amico Steve Win Praticamente fingerò di avere le hack Lui secondo me ci crederà tantissimo Quindi vi ricordo se volete avere un altro video del genre Iscrivetevi e lasciate like Se questo video raggiunge 60 like e 24 ore Ne avrete un altro E detto questo, iniziamo! Steve Win, come stai? Oh Dylan, tutto bene Guarda, oggi sono pronto per farmi una partita così dopo tantissimo tempo Come va? Come va? Racconta Brava, tutto bene Oggi ho da proporti una bella sfida Davvero? Lo sai che il lupo al fungo con le sfide C'è proprio pane per i suoi denti Ok, allora se sei un vero lupo al fungo la devi accettare La sfida che ti voglio propondere Se tu riesci a battermi in uno F1 Io ti dovrò dare 100 error E la madonna! 100 error Ma lo sai che io accetto subito Andiamo subito in partita Non vedo l'ora di distruggerti Dylan Ok, andiamo Ok Steve, ci sei? Sì, ci sono Frazzo Prontissimo, voglio questi 100 euro subito Allora, prendiamo in questo pompa qui Anche un cecchino se proprio vuoi E un assalto se so dov'è E lo scarro Ok, hai già perso Dylan Guarda, io te lo dico Utilizzerò la mia tecnica lupesca contro di te Ok, vai Uso la tua tecnica lupesca Anche se non so se vincerai Però io Io spero di vincere Oh, ma Dylan Oh, ma sei partito straguerrito Aspetta No, 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 no Partiamo davvero male Eccoti T'ho beccato T'ho beccato, t'ho beccato C'è Steve Oh, oh Mi hai fatto malissimo Ma non lo so perché adesso Sto per cadere, aiuto Fra, ancora non ho attivato la mia tecnica Ma appena la tiverò vedrai Un colpo in testa Godo Beh, ok Vieni giù Steve Che adesso lo rifacciamo Dai, questo è solo il primo round Sai? Il primo round per i nabbi Capito? Quindi Ah, sì, sì Dicono tutti così Chissà perché Ma adesso vedrai Perché adesso non usi pure più la tecnica del lupo al fungo Ma uso la tecnica del lupo smilitariz Adesso ti smilitarizzo tutto E che sarebbe la tecnica del lupo smilitariz? Che adesso te la faccio vedere E è questa qua Palala palala Si smitraglio tutto Con la mitraglione Miss Militariz Mi dispiace Dylan Ma mi sa che United 51 Me li sto per portare a casa Ok ragazzi Mi sono mutato Steve Non mi sta sentendo E adesso Lo trolleremo proprio bene Vedete questa scritta qua? E se vado qui sotto C'è questa Secret Room E infatti Oh ragazzi Ho 10.000 Di vita Lui adesso scriverà tantissimo Ok Steve Ci sono Adesso io ti batto eh Ok Eh no penso proprio Dylan Perché gli ultimi due ranta sono finiti molto male Quindi 3, 2, 1 e via Ah guarda l'hai perso Se scassi Bra ma te mi hai tolto Allora il pompa quello vecchio Toglie in testa 180 A te mi hai tolto più di 180 Sta cosa non quadra Ti ho fatto un headshot Steve Ti ho fatto un bel headshot Vabbè forse questo qui è il pompa E sta mappa è un po' vecchia Quindi non lo so riproviamo Però non è che fosse tanto normale come cosa Tipo eh Aspetta 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 La Fra è normalissimo Provo a farti uno scopo Oddio No no Fra non è normale Io ti posso garantire che no Ma non è normale Come cavolo hai fatto a farmi headshot da quella distanza Non puoi togliermi Eh col ce Fra avevo il cechino Ti ho fatto l'accio col cechino Dylan è matematicamente impossibile Vieni un attimo giù Vieni un attimo giù Facciamo l'ultimo round Perché a me sta cosa non va assolutamente bene Ok vai vai Facciamo l'ultimo Ultimo Ultimo round Ultimo round Perché non è possibile una roba così Non è possibile No Fra mi hai tolto un botto No Fra mi hai tolto un botto No 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 Quanta vita hai Ti ho fatto troppo danno Sono troppo forte eh No 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 ma io mi devo curare No no ma non è normale sta cosa No 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 Dylan stai lontano Io ho pochissima vita Cioè io ho ancora tutta la vita Non mi hai manco colpito una volta Eh ma ci credo che tutta la vita Però no No Oddio No Fra Quanto mi hai tolto col piccone No 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 Fra te stai gittando Cosa che succede Fra fra ma te mi hai letteralmente tolto Non so tipo 60 col piccone 70 Non lo so Oddio 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 No 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 Fra 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 come il cavolo Fai a spaccare le strutture con un solo colpo di piccone No no non è normale Non è normale Aaaaa Vieni qua Steve Steve vieni qua Scappa Scappa Lupo scappuzzo via Tecnicato del lupo scappuzzo Aaaaa Ma sì ma perché scappa hai paura Ma certo che ho paura Il tuo piccone micchia sembra quello di Thanos Adesso ti faccio cadere No 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 ti odio Dylan Ti odio Dylan Ti odio Dylan No piccone no Fra sei troppo scarso Ma disistalla fort Ma non sai Ma cosa è troppo scarso Avevo avevo Allora Dylan Il piccone quanto toglie Dovrebbe togliere 20 Aspetta facciamo la prova Allora il mio piccone Se io ti colpisco toglie 20 Ok Colpisci mi te Colpisci mi col piccone Come cavolo fai a togliere 80 col piccone No 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 Dylan Te stai citando palesemente No fra non sto citando Ah no Ah no Ah no Va bene va bene Allora se non stai citando Andiamo in un'altra mappa E vediamo se sei ancora così forte Mi sono rimutato E come vedete ragazzi Ho messo le hack Ma non sono proprio le hack Cioè sono hack finte Io adesso voglio far credere a Stiwin Che ho messo le hack Vediamo la sua reazione Ok Ok Stiwin ci sei? Si ci sono Dylan Ci sono vai Dai Dai adesso Adesso ti vado Perché tanto abbiamo cambiato mappa Prima usavi le hack Adesso non le userai mai le hack È impossibile Ah sei sicuro Oh 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 No 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 Dylan Dylan non è normale la roba così Come cavolo hai fatto a beccarmi tutte quelle volte? No 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 Stai fermo No Dylan 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 Come cavolo Guarda che c'è lì Cosa? Cosa che c'è? Cosa che c'è? Porca puttana Mi hai fatto volare via le cuffie Sei un bastardo Sei un bastardo Mi fai cagare in mano No cosa ho fatto? Non ho fatto niente Fra Madonna Un alieno mi è saltato in bocca Cioè nel senso Vabbè Anche a me Fra Non solo Stai tranquillo Sì va bene però Cioè Non No Fra Mi sta venendo male al cuore Io ti dico Io ti dico Che mi sta venendo letteralmente male al cuore E adesso però ti batto io E adesso ti batto io Eeeh Vedi Vedi che senza le tue hack Dopo non ce la fai Vabbè Ma io non avevo un primo alle hack Ah no Assolutamente il tuo piccone Toglieva tipo 80 Cioè nel senso No 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 Dylan Ecco Ora cosa dici ancora le hack? No non è possibile Secondo me sì Cioè Ma non lo so Dai Io direi di riandare E Cioè se mi batti ancora in quella maniera Davvero Cioè non saprei che dire Adesso ti batto subito eh Perché tanto Di quello che ho visto è scarso No Adesso Adesso Dylan Non ho neanche applicato la tecnica del lupo al fungo No non ci provare Non ci provare Ma piccone Ma piccone Non ci posso credere Ma piccone non ci posso credere Ah Oddio Basta dai Ma fra Ma mi cago addosso Cioè un buddista Che mi viene nello schermo Cioè che devo fare io così Vabbè fra Tranquillo Ma È normale Fra Ma non ti preoccupare Ma non è normale È un alieno Un marziano Che mi entra in camera Cioè non è normale per niente Ma guarda È un tuo amico Il marziano Eh sì sì È l'amico di Di ste palle Senta ma Ma tu dove ti sei nascosto Hai paura adesso Steve No non ho paura Guarda Pum Colpito Oh oh No 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 Adesso ti hai paura eh Dylan Adesso tecnica del lupo al fungo Vedrai come ti faccio fuori No Mi hai fatto cadere Eh ti ho fatto cadere E non saprà E non sarà solo questo Perché tre No Ah piccione Vedi che con la tecnica del lupo mannaro Dopo è tutto più facile No no che cosa stai facendo Per chi veda questo uomo qua No che c'è 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 Non c'è niente XP 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 Voglio vedere XP No 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 Porca putta Ma allora era qua Che te mi facevi venire i colpi No Dylan 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 Io ti odio Io ti odio Allora Vuoi cambiare mappa Sì cambiamo mappa Ma che è tutta sta roba Crosshair No fra Te stavi citando Te stavi citando Che è sta roba Fra stai palesemente citando Perché vedo Se clicco sto pulsante Vedo un coso rosso A fianco a te No Te stavi usando le aimbot Ma guarda te No no Fra ti posso spiegare No 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 Ma sta mappa è stracettata Ma guarda qua No no Dylan Va bene Cambiamo mappa Allora scegli la tela mappa Ok Va bene Va bene Stavolta la scelgo io E non puoi Scommetto che La prossima volta ti batto Mettiamo davvero 100 euro in palio E vedrai come andrà a finire Sì Eh sì Però non puoi fightarmi così Cioè nel senso Così a tradimento Vabbè In questo video Devo salutare le tre persone Che hanno trovato la prola segreta Nell'ultimo video In questo video Devo salutare F Mattia E Luca Ok aspetta Devo bere un bicchiere d'acqua Torno subito Ok Ok Non ti preoccupare Ok ragazzi Steve però Non sa che ci sono le hack Perché c'è questo telecomando Come detto Posso Sfasfunare i bot Fargli un jump Che è invisibile E posso avere lame E un sacco di roba Cioè Lui adesso sclererà Ok va bene Dai Iniziamo a fightare 3 2 1 Vai 3 2 1 E la prima round Me lo porto a casa io Ma lo sai fra che i lupi Sono dei mastri con i cecchini Cioè loro Loro una volta che ti vedono Te sei già morto E tu sei un mastro col cecchino Eh sì Eh sì Sono un vero mastro col cecchino io Va bene Ah Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Aspetta Fai prendere l'urto No Mi dispiace per 100 euro Dopo tutti i cheating Che hai usato No Dylan Dylan dove sei No 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 Succeda No no aiuto Aiuto Perché sei invisibile Ma non sono invisibile Sì sei invisibile fra Sei invisibile C'è C'è un fantasma C'è un fantasma Mi hanno Sai cosa mi hanno Riferito Che sta mappa È infestata Ma che fantasma Ma che fantasma Dylan È infestata No dai ma Ma in che sesso Ma scusami Ma l'ho messa io Non può essere infestata Dove cavolo sei Guarda 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 sei invisibile Io colpisco un uomo invisibile Perché Ah no Eccoti Non sei invisibile Che succede Steve Mi sono cagato in mano Mi sono cagato in mano Ma no Ma Steve Stai tranquillo Ma non è niente di che Ma tranquillo Rilassati I bangladini ci si mettono Vieni qua Dylan Vieni qua Dylan Mamma mia Devi morire Devi morire Che mi fai pure cagare in mano Vieni qua Vieni qua Pooooom Sono qua Pooooom Pooooom Noo Mi hai ucciso Sì mi dispiace Dylan Siamo uno pari Chi vince questo vince tutto Bene dai ci sto Però prima fammi riprendere lutto Ok Grazie Ma se non te lo facessi riprendere Ti cominciassi già a sparare Allora saresti un 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 buffo Allora sono un buffo Dove sei Dylan Aaaaaaah Aaaaaaah E te il buffo Porca di quella porca Che succede Ma non ti cagare in mano Ma ancora con sti africani Nello schermo No fra Basta Ma che che africani Fra Non so Ma non lo so I fantasmi Comunque sia Cioè Non lo so Non è possibile No 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 Non può No 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 E quindi ti devo dare 100 euro Niente ti devo dare 100 euro Aspetta dai Dai facciamo un altro fight Dai O hai paura Ultimo fight Ultimo fight No Aspetta Cos'hai detto Dylan Io non ho paura Vieni qua Vieni qua Pum Pum Guarda 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 che non mi becchi Guarda che non mi becchi Pum Pum Di lasero Pum No 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 Come fai ad avere una mira così Aspetta Vieni qua Ma io ti dico una cosa Me ne va No Fra guarda Io direi che comincio anche a luttarti un po' l'hut Allora prendiamo un po' qua la roba No 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 C'è No 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 Non prendo il mio l'hut No 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 fra Adesso te mi devi spiegare cos'è questo telecomando qua Niente fra Non è niente No 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 Ah no, non è niente eh, non è niente Secondo me invece è proprio da qua che te cittavi Dylan, fai proprio schifo, cioè veramente, fai uno schifo Davvero? No, io adesso vi voglio vedere cosa c'è in questo telecomando Vediamo un po' Invisibilità, jumpscare, spawn di bot, power Fai letteralmente schifo Dylan Fai talmente tanto schifo che ti meriti un jumpscare Scusa, te li devo fare io a te, mica te a me No, mi dispiace frate, lo meriti Perché io adesso me ne vado pure via Porca di quella, porca, non ti do manco i 100 euro Vabbè ragazzi, Steve è un po' esclerato Se ne ha dato Steve, ci sei? No, io abbandono, abbandono il gioco, via Chiudo tutto e disinstallo forte No ragazzi, se ne è andato Lasciate un bel like per il supporto Adesso ragazzi lo richiamo Steve Oh Dylan Guarda, comunque volevo dirti che ti ho fatto un prank Oh come, era tutto un prank questo? Sì, per un mio video E prank di me Sì, per un mio video Grazie.